Europa sempre più unita anche nell'ambito del monitoraggio dei detriti spaziali. I vertici delle agenzie spaziali di Italia, Francia, Germania, Spagna e Gran Bretagna, riuniti in occasione dell'Air Show di Parigi alle Bourget, hanno infatti firmato, in rappresentanza dei rispettivi paesi, un accordo per la costituzione di un consorzio nell'ambito del programma SST, lo Space Surveillance and Tracking, promosso dall'Unione Europea. Scopo principale di SST è fornire servizi di sorveglianza e monitoraggio ai paesi membri dell'Unione Europea, per proteggere le infrastrutture spaziali. L'iniziativa è totalmente made in Europe, sia per quanto riguarda l'organizzazione che per la strumentazione utilizzata. Con SST nascerà così una rete europea spaziale e terrestre, in grado di produrre un importante archivio dati dei detriti in orbita e la creazione di centri di elaborazione di queste informazioni a livello nazionale. Lì si valuterà il rischio di collisione tra oggetti, verranno diffusi eventuali allarmi e identificati frammenti destinati a rientrare a terra, fornendo anche stime, delle tempistiche e probabile luogo del loro impatto. Contestualmente alla firma dell'accordo per l'aspetto prettamente italiano, ASI, INAF e Ministero della Difesa, rispettivamente rappresentate dai presidenti Roberto Battiston e Giovanni Bignami e dal generale Pasquale Preziosa, hanno siglato un accordo quadro sul programma SST. L'accordo prevede la costituzione di un organismo di coordinamento e di indirizzo per le attività di Space Surveillance and Tracking della Commissione Europea, per coordinare le attività nazionali previste da SST. In questo contesto, l'INAF metterà a disposizione due suoi radiotelescopi, la Croce del Nord a Medicina, vicino Bologna, ed SRT in Sardegna.